salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video è nuovo volo con il mavicair oggi stiamo andando trascinando un carrellino e camminando circa per due chilometri all'interno di questa pineta per arrivare probabilmente alla spiaggia più bella della maremma la spiaggia di cala violina quindi ragazzi se arrivo senza schiattare alla fine di questi due chilometri di pineta farò volare il mavic per vedere la spiaggia più bella della maremma la spiaggia di cala violina cacchio ragazzi sto arrancando di brutto c'è una super salita che non è lunghissimo ma con sto carrellino da tirare mi sto spaccando in due quindi non vedo l'ora però di arrivare per far volare il mavic ok ragazzi ce l'abbiamo fatta siamo arrivati alla spiaggia di cala violina adesso prepariamo vari e vogliamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti